buongiorno ben svegliati tutti qui sono circa le dieci e mezza circa di roma fa un caldo della madonna credo che oggi siamo sui 36 gradi e me ne sono scappato dalla dal centro veramente il centro è pieno di turisti e io non sono un turista non mi sento turista e quindi sono venuto qui a trovare un leoncino qui in questa parte di roma dove vi porterò a vedere un posto un po particolare che si chiama il palazzo della civiltà italiana è un palazzo diciamo rispetto a quello che abbiamo il concetto dell'antica roma è al mio segnale scatenate l'inferno è abbastanza moderno perché è un posto una cosa gigantesca che vedo qua davanti ai miei occhi è iniziato prima della seconda guerra mondiale è stato interrotto di alle poi è stato finito era stato costruito anche in occasione una specie di expo un evento di di roma del dell'epoca è particolare perché prende un po le caratteristiche del quartiere parlando tra di noi credo che avrete visto il vivo della di youtube che l'ho fatto ieri sera questo video lo vedrete dopo naturalmente perché forse sono anche tornato in argentina quando vedrete questo video non lo so devo vedere se riesco a ditare un po e adesso vi faccio vedere sta roba no è pazzesco figa è gigantesco minchia la madonna queste arcate qua queste qui si ripetono ben 216 volte e potete vedere anche che ci sono anche delle statue romane e l'altezza veramente imponente perché vedete arriva fin popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasvingratori come che qua si ripete tutto eh cioè la scritta quella lì in alto che ho letto prima cioè si ripete anche le statue quale stato sono un po diverse per fortuna però quella statua lì che vi ho fatto vedere prima si ripete con questa con questa sono sono quattro stato uguali quattro facciate uguali questo qua 206 cercate sono tutte uguali salvo le statue cioè io avrei messo un po di più di fantasy e creatività qui ci sono anche i miei uffici sono gli uffici di fendi il mio nome è hendy non è aperto al pubblico da quello che ho capito però si può fare un giro tra due svolto un po di qualche clip se siamo un popolo di strass migratori pensatori scrittori su queste cose qua e mi fai sta roba tutta uguale però vabbè l'idea dell'edificio è questa e se guardate qua vedete anche quello sembra hospital clinic di buenos aires e ragazzi adesso mi allontano da qua va all'altra parte e vediamo se riesco a recuperare il gimbal se no è un casino cazzo a filmare senza che sboccio che caldo porca miseria ho sbagliato strada però guardate dove sono mi sono confuso con la strada però mi sono trovato in questo bellissimo laghetto io non so se sia privato cosa perché è tutto chiuso ci sono questi ragazzi qua che vanno vanno in canoa c'è info contatti già chiamano il telefono perché tutto chiuso non si può entrare così liberamente però bellino fresco pieno di alberi vegetazione poi c'è un piccolo parco qua vicino giusto davanti al lago di qua c'è il lago da questa parte ma non si vede tanto e di qua c'è il parchetto sale del lago roma ever info contatti questo numero qua 335 5383550 ciao 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 Grazie a tutti.